Il mondo dello spettacolo è in lutto nelle recenti ore, poiché è giunta la notizia della tragica scomparsa di una celebre produttrice ed organizzatrice di eventi. L'ospedale Sant'Andrea di Roma ha purtroppo visto sfuggire tra le sue braccia questa talentuosa donna a causa di una malattia improvvisa che non ha lasciato scampo. Sabrina Giambartolomei aveva solo 50 anni. La comunità di Nepi, nella provincia di Viterbo, ha espresso le sue più sentite condoglianze, così come l'intera amministrazione comunale, per la perdita di questa icona del mondo dello spettacolo. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei. I social network sono invasi da messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi, tra cui spicca quello di Maria Grazia Cucinotta, sua cara amica e nota attrice. Maria Grazia ha scritto di aver atteso speranzosa che Sabrina si svegliasse, sperando che tutto potesse ricominciare tra le loro risate e abbracci. Ma purtroppo, Sabrina ha continuato il suo viaggio oltre i confini di questo mondo, lasciando tutti con un dolore immenso. Sabrina Giambartolomei rimarrà nei cuori di chi l'ha amata e conosciuta per sempre. Le sue straordinarie capacità nel campo dello spettacolo e il suo calore umano saranno indimenticabili. Domani verranno celebrati i suoi funerali. Un momento per onorare la sua memoria e il suo prezioso contributo al mondo dello spettacolo. Grazie per aver guardato questo video. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti. Metti mi piace al video per sostenerci. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video.